Vai, veloce, andiamo Andiamo fino su, aspetta, mi mettiamo lì, che non è più Mi dai il panino, lo hai? E' dritta vero? Mi dai i panini anche a me, mi sono hibernato le mani a tenere vicino Sì, vabbè, mini panini Mega panini Io dovevo risparmiare, guarda che bestia cazzo Io devo risparmiare, mi fai la foto Non ti basta il video? No, voglio la foto, pronto faccio venire Se mi indovini solo, te l'ha fatta, se mi indovini che anno è questa qua 2001 No C'è scritto Dove? Paganella 2001 è la scritta 2001 2005 Vedo, aspetta fammene uno Tanto che riprende Aspetta Adesso spingi il pulsantino addosso di qualcosa Il cameraman Di qualche boiara Molto buono Il pulsantino con la fotolita Eh? Mmm Ma stai filmando? No Si Lampeggia rosso Basta dai Dammi Poi che non è da niente che YouTube ti dai sky Mh Ma quante visualizzazioni? Per i piccoli canali 4.000 In euro 2000 è un euro? Per i grandi canali ne bastano 1.000 per esempio C'è Un video deve avere 4.000 Un video Vabbè Contando che il mio massimo di Visualizzazioni per una Per Cosa 500 Mmm Sei all'ottavo della tua missione Puoi guadagnare cosa? Mh Beh ma si fa la somma delle mie Tutti i video Beh allora sono già 3.000 Sì Intanto che mangi un bel video Però si tutto Per da Noi Che Omigri Eccolo Eccolo Che Che Dove Che 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 Prende il panino Prende il panino Prende il panino Invoca il panino C'è un mischiaccio i panini Prende il panino Prende il panino Prende il panino Cista, cista Siamo qua non arrivati No, è l'intermedia questa Beh è giusto dai per un panino È arrivato il video o no? Lava la firma Segura Non è via un bike a niente No, 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 non è via un bike a niente Metti dentro Metti dentro Metti dentro 8 persone 540 kg